amici ci eccoci a misano misano world circuit c'è qui la gialla è una gara e quindi noi andiamo con il nostro solito piglio di fare video fare foto e divertirci qui c'è il sole ma in realtà nascosto là dietro non so cosa si vede ma è veramente nero o due figuriamoci se non c'è l'imprevisto ma ho questo numero 338 carino e niente mi approprio e vado verso il nero intanto allora di solito entro qua con la mia medical car o la safety car oggi entro in bici che strano ti evo con la mountain bike bestiale comunque lo farò vedere questo bellissimo tempo che si prospetta e andiamo verso la griglia di partenza porca misera partirà un pochino più piano del solito direi c'è già una bella masnata di gente direi che perlomeno anche se siamo il primo settembre le fresche e diventerà sempre più fresca quanto pare mi schiero mi schiero aggiornamento piove si sono scappati tutti sono tutti la sotto e qua ci siamo guadagnati la prima fila superiore per la safety car resisto resisto per essere piove così resisto qua mi mettono anche gli euro dio bozzi the final counter aggiornamento diluvia di brutto la bici in prima fila io dentro box 3 minuti alla partenza ho tolto e rimesso il marsupio 74 volte porca troia ciao a tutti buona fretta con la 30 davanti sono la manetta ma vi passa tutti speriamo nelle salite problemi alla insta 360 non basta percorso ma vi faccio un po' di sterretino via andiamo 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 a storino si c'è da recuperare tipo mille posizioni merda ho tutta pianura mi schioppa il cuore per spingere con la 30 a me è uscito il sole boia che boia viva la fanga guarda che roba stana vacca ciollo ciollo neanche il trenino tra una pazzanga e dall'altra siamo a saludecio fra un po' si comincerà a salire ma è stata piena ragazzi è cominciata ufficialmente la salita ecco la morte dalla regia il 343 mi dice che stiamo salendo per mondaino poi dopo si scende ed è pieno di insetti ha detto si vedrà qualcosa che noi proviamo pulire un po di panorama va ci inseguono ci inseguono allora la morte del bosco è un ripidone dell'ostia nelle rocce scivolose siamo sopravvissuti si sta furca ma d'ostia ragazzi è un momento duro però l'ultima salita e l'ultima decisa mi ha preso un bel po' bravo storino merda è finita questa orribile porca trottola adesso un po' di sfalto anche se sale benissimo boiazza sudato anche quello che non c'era da sudare via via siamo a montefiore conca altra salitona dalla giungla dai dai mamma che giornata allora più o meno abbiamo passato alla metà qui c'è una brutta salita peggio in realtà un muro già fatto qualcuno è sceso qualcuno è sopravvissuto boiazza come ancora a metà presa una bozza di acqua al volo non lo so io non sto guardando un cazzo però qua il percorso quindi non lo so se ce n'è ancora di salito o non ce n'è se è tutta piana lo scopriremo comunque come al solito vado meglio da metà gara in poi molto bene molto bene un maratonetto nato sono tornati lungo più lungo più iniziamo e via ho il grande 268 davanti a me nelle foreste casentinesi mica baobao micio micio sto facendo i fanghi per tornare ora una pelle liscissima e a quanto pare ce l'abbiamo fatta anche stavolta va dobbiamo salutarla Roby sempre vivi sempre vivi oh yes oh yes bene signori è fatta ho vinto ho vinto a posto via il nostro mino ipnotizzo eccolo arriva allora direi che di lavare la bingia non se ne parla neanche va benissimo così ho fatto le sebiature e anche la gialla zic crocetta mai più a posto bene bene bella vista andremo per la prossima ciao